Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Giulia Stabile e San Giovanni annunciano sul social la lieta notizia e fanno sognare tutti i fan Ecco la novità nella via dei due artisti.San Giovanni e Giulia Stabile sono sicuramente una delle coppie più amate del web tra i giovanissimi I due che si sono conosciuti durante la partecipazione ad Amici 20 dove sono arrivati secondo e prima continuano ancora oggi dopo più di un anno la loro storia d'amore E hanno da poco dato una splendida notizia ai loro fan che sono incredoli ma saranno una nuova famiglia tutti insieme ora Le loro carriere procedono a gonfie vele, lei con la danza ad Amici sempre vicina a Maria De Filippi dove non solo è ballerina professionista ma anche rappresentante di Oreo e poi co-conduttrice a Tussi Chevales San Giovanni invece con la sua musica ed ha partecipato anche all'ultimo festival di Sanremo con Farfalle, brano che ha cantato anche in spagnolo con la cantante Aitana San Giovanni e Giulia, area di cambiamenti nella loro vita.L'unico problema della coppia quindi sarebbe la distanza data anche dai tanti impegni lavorativi che ognuno di loro ha Ma la ballerina in una recente intervista a Pia ha espresso il desiderio di un futuro con San Giovanni, è la persona con la quale vorrei avere la mia famiglia Non vedo l'ora di avere una famiglia tutta mia, certo non subito, ma è nei miei progetti Punto il sogno di una famiglia forse è ancora presto da mettere in pratica proprio come ha detto Giulia ma i due hanno deciso di superare la distanza andando a vivere finalmente insieme dato che era sempre più complicato vedersi e stare insieme In estate lei è più libera e può seguirlo nei suoi concerti in giro per l'Italia, da settembre però con l'inizio di Amici dovrà essere a Roma Giulia e San Giovanni hanno quindi deciso di vivere insieme a Roma, la città dove si sono conosciuti, negli studi di Amici di Maria De Filippi Giulia tornerà ad Amici e San Giovanni in studio per lavorare a nuovi progetti Potranno continuare la loro storia d'amore facendo sognare i fan che li seguono sempre con grande affetto Inoltre Giulia inizierà anche un nuovo percorso e oltre a ballerina è conduttrice e ora sarà anche un'attrice Giulia Stabile infatti sarà nel cast di Giving Back Generation, una serie tv che andrà in onda su Amazon Prime Video e che è impostata sulla salute mentale Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti